Sarà dedicato ad Alexander Sapienza, scomparso due anni fa in un incidente stradale, il Parco di Alex, uno spazio wellness all'interno dell'area verde del mausoleo di Todorico a Ravenna, concesso dal Comune. L'idea, voluta dalla compagna di Sapienza Cinzia Galeotti e sostenuta dal presidente del motoclub Only Two Wheels, Alessandro Veridiani, punta a raccogliere fondi per realizzare un'area con attrezzature ginniche, sia per normodotati che per disabili. Uno spazio inclusivo senza barriere che permetta a chiunque di praticare sport all'aria aperta. Questo progetto nasce dal grande amore e dall'affetto che abbiamo tutti quanti nei confronti di questo ragazzo meraviglioso che ha fatto tanto per il motociclismo, per lo sport Ravennate e ovviamente per tutti noi. Ha fatto tante opere di beneficenza insieme alla sua compagna Cinzia e hanno regalato un sacco di attrezzature per centri, per l'ospedale. Hanno fatto tante iniziative fino addirittura a un moto incontro ad Amatrice per portare della cancelleria alle scuole. Come si svilupperà adesso il progetto? Sono partiti i lavori, stiamo creando una piattaforma online per una raccolta fondi, stiamo facendo di tutto e di più e tutti ci stanno dando una mano per realizzare questo wellness park outdoor. Ci saranno tante attrezzature ginniche, sia per normodotati che per disabili. Grazie a tutti.